Esserci sempre, questo è il tema del 164esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, all'Aquila celebrata nella bella cornice dell'Auditorium Casella, realizzato nel poster remoto dall'architetto giapponese Sigeru Ban. Nel suo discorso, in una sala affollata di autorità, ma anche di giovani rappresentanti della società cittadina, il questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, ha rivolto prima di tutto un commosso pensiero a tutti gli appartenenti alla polizia caduti nell'adempimento del loro dovere. Ha ricordato poi che le migliori politiche di intervento in tema di sicurezza sono quelle che prevedono attività preventiva, collaborazione ai cittadini, educazione e rispetto della legalità e ovviamente la rigorosa applicazione della legge. I successi che abbiamo avuto in questa provincia sono stati apprezzati da tutti, continuiamo a lavorare e a mantenere la guardia alta. Devo dire che c'è stata una flessione dei reati in generale, non solo nella provincia dell'Aquila, ma su tutto il territorio nazionale, e questo lo si deve all'attività di controllo del territorio, all'attività di prevenzione che è stata svolta non solo dalla Polizia di Stato, ma da tutte le altre forze di Polizia. Ci sono delle città oramai in Abruzzo che si stanno dotando di sistemi di videocamera, videosorveglianza, proprio per garantire attività di prevenzione e di controllo. La prevenzione diventa un punto fondamentale, piuttosto che reprimere, si è capito che è meglio prevenire. A seguire il prefetto della provincia di L'Aquila, Francesco Alecce, il questore, hanno consegnato gli altestati di merito al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento dei compiti di istituto. Riconoscimento e omaggio anche ai ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down Onlus, Società Atletica L'Aquila e Rugby Experience School. E a proposito di esserci sempre all'auditorio, non potevano mancare i veterani dell'Associazione Polizia di Stato. Quando uno ci crede, sicuramente poliziotti si rimane sempre, poliziotti per sempre, perché anche se uno va in pensione, se uno dopo che ha fatto una vita, sicuramente rimane sempre con quel orgoglio e la mentalità di vivere come quando era in servizio. Non è che cambiano le abitudini, le regole di vita.